In questi ultimi anni, la cucina del Sol Levante sta vivendo un periodo di gloria e termini come sushi, sake, tempura, 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 sono ormai diventati di dominio comune. Prepariamo la salsa per teriyaki. Per la salsa per teriyaki occorrono pollo, 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 salsa di soia, sake zuccherato e succo di zenzero. Mescoliamo tutto questo ingrediente e poi... E poi... E poi... E poi... E poi... Salsa di soia, salsa di soia, pollo, 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 pollo. Salsa di soia, salsa di soia. Dopodiché... E... pomodori, pomodori, melanzane, melanzane dopodiché pomodori, cetrioli, pomodori, cetrioli e poi a 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